Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi siamo qui sul solito server Mineplex eccetera eccetera Link come sempre in descrizione, anzi IP in descrizione Insomma Comunque, primo video dopo Natale Io, cioè sinceramente ve lo dico subito Non ho ricevuto niente di che Giusto i big money E tipo un bagnoscuma e un profumo della Teadora O così E basta, poi con i big money vediamo che cosa comprarci Quindi voi scrivetemi nei commenti Scrivetemi nei commenti Cosa avete ricevuto per Natale Cosa avete fatto eccetera eccetera Quindi, siamo qui su questo server Su questo server faremo i survival games Che adesso devo trovare Usano tipo qua, vabbè Posso anche fare questo, vabbè sti cacchi Comunque, per aggiornarvi Allora, questo è l'ultimo video dell'anno Del 2013 E poi riprenderò Uscirà un video Il 2 gennaio Il 2 gennaio uscirà Un video di vanilla E poi vi aggiornerò sulla pagina facebook Quindi, cliccate Mi piace sulla pagina facebook Link in descrizione E così Così per aggiornamenti Potrete vedere tutto lì E adesso quindi iniziamo il gioco Prendiamo Axeman Non lo so Ho preso? Ok, ok Eccolo Abbassiamo un po' Le cuffie Ok Allora iniziamo A giocare Ho giocato una volta Si Poche volte Ai survival games qui Quindi ancora mi ci devo abituare Vediamo un po' cosa Combiniamo Ecco LOL Siamo tutti fermi Ok, dobbiamo andare alle cesto Vai, vai, vai Ho preso Non c'è un cacchio però Per menare Via, 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 via Adesso loro cominciano a menare come i turchi Ok Almeno un po' di protezione Guardate La vita Ho 4 cuori in più Qua c'è uno cesto? No Eh Che pazzo che sono Pensavo di essere tipo Incredibile O cose del genere Qua c'è qualcosa Sì, una cesta Però sto correndo una cifra No, stivaletti Posso prendere? No, fuck Cesta, no Cacchio Non ho niente per Oh, un'altra cesta Vai, vai, vai Mangiamo il biscotto Non ho mezzo E quindi E niente Che poi Proprio i pantaloni Stivaletti Che già c'ho Porca miseria Allora, andiamo in giro Là ho visto uno Laggiù Noi scappiamo Andiamo di Oh, fuck Fuck, fuck, fuck Non corro più come prima Ok, c'ho speed Per qualche Minuto C'è Ceste, ceste, ceste No, non vedo niente C'è questo Ciao, questo Via, via Oh, qua dentro Fuck Non c'è niente Qui Laggiù ci sono già andati Cazzarola Come meno io Come do i pizze Annaggia Saliamo, saliamo, saliamo Dove andiamo però? Questa c'è l'armatura Eh, c'è del legno Posso prendere il legno? Andiamo Almeno mi faccio una spada in legno No, non me lo fa prendere Fuck Eeeh Oh, 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 oh Via, via da qua Via, via, via Andiamo dalla parte opposta Alla sua Intanto la bussola No, c'è pure un altro qua Eeeh, porca miseria Come Eh, sì Pure uno qua dentro E io come Do cacchio vada a pia la roba C'hanno tutto loro Già Qua Tra questa casetta Vai, vai, vai Saliamo Porca miseria No, c'è una spada in oro Via, 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 via Ia Porca trota Tre cuori, tre cuori Mi sto a seguire, credo Ah no, c'ha Un'ascia in oro Via, via, via Non c'ho nemmeno da mangiare Ok, non mi sto a seguendo più O almeno Credo Ecco, mi da Questo con un'ascia In 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 pietra Dov'è però? Porca miseria Via, scappiamo Ma non posso fare niente Cioè Non ho via Di fuga Nel senso che Non posso menà A parte col pugno Poi Scappo Madonna Il lag Porca troia Porca Ok E Facciamo una cosa Io muoio Perché tanto ormai Non posso fare più niente Ok ragazzi Eccoci in quest'altra partita Ehm Ha laggato molto Ehm E diciamo che Ho dovuto chiudere Addirittura Minecraft Ehm Perché Sinceramente Il server mi faceva uscire Mi diceva che c'era una cattiva connessione Eccetera eccetera Adesso Dopo un paio di minuti Sono riuscito a rientrare E a rientrare sui server Cioè sul server E quindi anche sui survival games Quindi facciamo questa seconda partita Mappa più epica Abbassiamo un po' di più il volume Posso? Sta laggando Ehm No Vabbè Ho capito Sta laggando a merda Di brutto Sono Eh boh 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 Che cacchio Ok Adesso sta Facendo bene Facendo bene diciamo Cioè sta andando bene Credo No Perché questa sta fermo E io sto prendendo le crocche da tutti Ce la possiamo fare? Boh 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 Ok sono due cuori Qualcun altro Mi sa che sono morto No? Strano Stranissimo Proviamo ancora a scappare Ma Mi sa che sono No Ancora sono vivo Dai Però questi si fermano Eh c'è Sto server Capito che è tanta gente Però Proprio a me Deve laggare Quando sto registrando Così Gli è preso Oggi Lagghiamo Perché deve registrare Blue light Dai Aprimi le ceste Buono Almeno qua ci sono Tre ceste Tipo Questo Te lo lascio Tanto Ah ce ne sono quattro Oh Una spada Epico Però mi serve Devo mangiare Dov'è l'altra Eccola Vai apriti Niente Una cesta Per mangiare Chi c'è qua Perché questa è rimasta aperta Ok Andiamo in questa casetta va Vediamo Oh fuck Quella ha una spada Mi sta Puntando verso me Vabbè Ho capito Sono stramorto Ecco Eccomi qui A guardare Perché ormai Sono morto Chi mi ha killato Sammycraft Grazie Ma tanto Non potevo fare nient'altro Dato che avevo Che cosa sta succedendo Dato che avevo Due cuori Tre cuori E Stava laggando A Proprio schifo Proprio Proprio Lo schifo più totale Quindi vabbè Aspetto Di nuovo Un altro po' E ci vediamo In una nuova partita Ok ragazzi Ho capito Che Survival Games Un po' incasinata Come modalità Nel senso Che lagga Molto E Sono andato in One in the quiver Che Credo sia La stessa cosa Di one in the chamber Mo Non lo so Perché il nome è diverso Però Vabbè Quiver Chamber Adesso però La proviamo Quindi insieme Ecco si C'è un hash E c'è un arco Credo sia La stessa cosa Di one in the chamber Però adesso vediamo Ci sono pure Delle ceste qua No Tutte vuote Ok Si Una freccia Ecco si One in the chamber Porco cane Vabbè Loro Non hanno frecce Ah ma ci stanno Pure i draghi Però E questo Il bello Triple Non io Ma porco Ho sentito I draghi Mamma mia Blue light Oddio C'è L'ho riuscita A sentire Porca miseria Ci stanno I draghi Leccio No 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 E' qua Mamma mia Che è successo Sono morto Dov'è Dov'è Il drago Che si sente Vai Nettamente preso Buono Questo Ma perché Ah no Ok Perché sono già due altre Che vedo la gente Morire in questo Taghetto di lava Buono Vai 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 Famoso Gli spawn killer Tanto nascono Tutti Ma che Ma perché Ma che c'ha oh Ma dici C'è gente citta Credo Ti è Dov'è Dov'è Due Invisibile Porco cane Hai finito Bravo Mi hai Richillato Vai schifo Vai Sai Uccide solo a me Porca miseria Qua mi spawnono dietro Prima prende questo No Liscio Epico Era Era un liscio Porco Che bella giornata Oggi Quello Easy Vai 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 È finito Fuck 20 20 Che Io quanto sto Blue light 7 Buono 7 uccisioni Ok No facciamo subito Un'altra partita Velocemente Perché È più bella Diciamo che Ci sono Dette differenze Da one in december Perché in one in december Si hanno solo 5 vite E quindi poi Dopo quelle 5 vite Non respawni più Mentre qua Ho visto che Continuo a respawnare Perché sicuro Sono morto più di 5 volte Perché questo Città di merda Ha fatto 20 kill Io ne ho fatti 7 E riprendiamo Jumper Che è L'unico kit Non a pagamento Perché poi Questo è 2000 gemme E questo è solo Per i premium Io ho 363 gemme Quindi Nemmeno posso Comprarmi l'altro kit Quindi Prendiamo questo Gratuito E facciamo Questa seconda partita E intanto Vi volevo ricordare Che Siamo arrivati Al 28 Di dicembre Quindi c'è 28 di dicembre Da quando era finita La scuola È passata Già una settimana Porca miseria Comunque Pensiamo a giocare Questa seconda partita In one in the Qui Sizer Sizer Qui Sizer One in the Finisher Oh che cacchio Ho spinto la chat Però sento Ci sono i draghi Però Mamma mia Dove sei? Esci fuori So che sei Ah coglione No coglione So più io Mori 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 Ma porco Giuda Che palle La gente Che non muore Dove mi ha spawnato Questa mappa Fa schifo Ma che cos'è? No Via sotto acqua Ma Chi è stato? Dai ti prego Dimmi Chi è stato? Così magari Sono più felice Sapendo chi era Chi mi ha ucciso Oddio il lag E ho tirato la freccia Ma non so dove Che è andata E sono morto Porca miseria Riuscirò a fare una kill Almeno? Questo sta già a set Sì ciao E qua Via qua Ma perché Giudice la spada In ferro Mamma mia No Chi è morto qua? Appena morto uno È passato avanti Porco cane Mamma mia Doppia Tripla Sono morto Bene va bene Infatti C'ho due frecce Adesso Ma da lì C'avevo pure prima Magari non l'ho visto Vai 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 Io passo dall'acqua Fa più figo Passare dall'acqua Invece che Passare sul Sul legno qua Vai 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 Sono tutti qua Ah sì 20 kill Ah il primo che arriva a 20 E rivince Quante kill ho fatto? 4 Ma 4 kill Un campione 4 kill è un campione One in the quiver Comunque ragazzi Spero Che questo video Vi sia piaciuto Vi aggiornerò Sulla pagina facebook Ripeto Il 2 uscirà Un episodio Di minecraft vanilla Quindi Fino all'ora Vi auguro Buon anno E poi Quindi Sulla pagina facebook Magari scriverò Qualcosa di più Importante Quindi lasciate un like Alla pagina facebook Intanto qui inizia una nuova partita E noi facciamo così Ritorniamo alla hub Facciamo prima Se ci riusciamo Ok Quindi Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare E se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale La pagina facebook È in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti 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 Ciao a tutti